La mostra itinerante Cappello Accessorio Necessario, frutto della collaborazione tra Dipartimento Tessile dell'Accademia di Anversa e dell'Associazione Coordinamento Tessitori, approda al Museo del Cappello di Montappone. L'esposizione sarà inaugurata sabato alle 16.30 e sarà visitabile fino al 26 marzo. In occasione dell'inaugurazione della mostra sarà proiettato alla presenza del regista Enrica Viola Borsalino City il docufilm presentato in anteprima mondiale al Torino Film Festival che racconta la storia del Cappello, icona del Made in Italy. I numeri del settore Cappello parlano marchigiano. Il 70% del valore in termini nazionali di aziende, addetti e fatturato spetta al distretto del Cappello del Fermano e del Maceratese. Solidi risultati del comparto rispetto all'anno precedente sono in aumento sia le esportazioni che le importazioni. I Cappelli di Paia registrano un incremento delle importazioni del 27,6 in valore e delle esportazioni del 14,9. Le esportazioni principali in Germania, Francia, Stati Uniti, Regno Unito, Spagna e Giappone. Tornando alla mostra, l'allestimento di cappello accessorio necessario è stato curato dall'art director Giuliano De Minicis. E se il cappello è l'estensione dell'anima, un oggetto con cui esprimere la propria personalità, non resta che recarsi a fare visita a questa esposizione. Una mostra da tanto di cappello.